ciao 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 a tutti sono tanto tanto felice di fare questo video in italiano questa sera me l'avete chiesto e quindi eccomi di solito faccio video ASMR in francese perché io sono francese però ho fatto due o tre anni fa video in italiano forse soltanto due e me l'avete chiesto di nuovo quindi eccomi la mia mamma è di Roma e il mio papà del Molise vicino Cassino se conosci però ho sempre parlato in francese con i miei genitori quindi lo sto dimenticando veramente e questa sera sono un po' emozionata perché la mia nonna se n'è andata al mese di luglio la mia ultima nonna e adesso siamo fine agosto e per me è come un regalo per lei quindi non ho voglia di dimenticare l'italiano però forse lo sai quando non si parla una lingua si dimentica molto molto facilmente quindi volevo parlare un po' con te questa sera e scusami se mi sbaglio ogni tanto ok? sto parlando con il mio cuore aperto quindi è per me il più importante e ho tanto tanto caldo non farò un video troppo lungo perché ho due bambini a casa quindi non so se si sveglieranno o no ed anche perché perché ti dico questo perché sono stanga stanchissima stanchissima ma avevo voglia di parlare questa sera non so di che cosa ti posso dire se non mi conosci che ho fatto video ASMR da 9 anni su YouTube come lo dici tu YouTube abbiamo festeggiato festeggiato 9 anni adesso al mese di agosto quindi sono molto felice perché è sempre sempre un piacere di susurrare delle parole di creare tutte le idee che ho nella testa e ne ho tante 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 ho preso un trigger veramente all'ultimo momento che sono delle piccole lettere per fare delle collane braccialetti e penso che quello che mi piace di più per l'SMR e soltanto la parola la voce quindi sto sempre cercando di trovare dei suoni tutto questo però per me basta soltanto la voce allora spero spero che ti potrai rilassare questa sera ti ho detto prima che avevo bambini quindi ho una piccola bambina di sei anni e un piccolo bambino di quasi tre mesi perciò ti stavo dicendo che sono veramente stanca ma felice 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 tanto tanto ho ho deciso di essere ogni giorno nel nel momento nel presente ok con loro con loro ed è un un regalo per me di essere mamma ho il mio lavoro che è youtube ed anche altre cose ho l'impressione di di aver creato tante cose questi ultimi sei anni diciamo e penso che è molto importante di avere di avere fiducia di fidarsi di se stesso quando abbiamo tutte queste idee per me il più importante è di essere felice è un po' strano per me di essere con te questa sera e di poter parlare piano di cercare di rilassarmi anche io avendo delle giornate tante rapide scusami che ho veramente l'impressione di di tradurre dal francese di nuovo è da tanto tempo che non parlo italiano quindi tutto ok sono felice anche di questo come ti ho detto prima la mia nonna se n'è andata e ho voglia di di parlare italiano con i miei bambini e è proprio difficile per me di parlare in italiano con loro sapendo che non è la mia lingua però sarebbe tanto tanto un peccato un danno di di non farlo quindi grazie a te di ascoltarmi questa sera spero spero che tutto sia ok per te in questo fine agosto dimmi dimmi qui sotto se sei francese e hai capito se sei italiano e hai capito mi piace mi piace sempre leggere quello che scrivi scrivi ho caldo come come non si sa diciamo che per questa sera mi fermo adesso adesso sto vedendo che il mio piccolo bambino si sta svegliando anche non tanto perché no ok allora io vado vado a dormire perché è molto molto importante è stato un piacere parlare un po' con te con questa lingua così bella che non ho voglia di dimenticare quindi ti auguro una notte meravigliosa sogni d'oro sogni d'oro e spero spero alla prossima buonanotte 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 e in buonanotte questo lui è è è Grazie a tutti.